Il carrello M1, meglio chiamarlo stazione mobile di lavoro, è stato progettato per tenersi vicino quanti più attrezzi possibili, anche attrezzi pesanti, evitando così di doversi allontanare continuamente dal posto di lavoro. Il carrello M1 è dotato di robusti ripiani da un lato e di una parete di pannelli con ganci di grande portata dall'altra, così da avere immediatamente a vista tutta l'attrezzatura. I due corni in alto sono molto utili sia per appendere oggetti che raccogliere lunghi tubi, evitando così che intralcino a terra. Il carrello M1 ha due ruote piroettanti e due fisse, per essere guidato e posizionato facilmente. Le ruote sono di grandi dimensioni e permettono al carrello di essere movimentato anche sui grigliati e sui terreni accidentati. Come tutti i prodotti Monaldi, anche il carrello M1 è verniciato a polvere ad alta temperatura. Il carrello M2 è anche lui una stazione di lavoro, studiato appositamente per le esigenze del verniciatore. I due corni in alto sono molto utili sia per appendere oggetti che raccogliere con soli due gesti tubi lunghi anche 7 metri, evitando così che intralcino a terra. I pannelli superiori possono essere dotati di diversi accessori, a seconda delle esigenze lavorative. Dotato di un mobiletto con piani a vista, per contenere tutto ciò di cui ha bisogno l'utilizzatore durante il lavoro. Lo spazio libero vicino al mobiletto può essere utilizzato per posizionare un aspirapolvere, un bidone o per un secondo mobiletto a scelta dell'utilizzatore. Anche il carrello M2 è dotato di ruote alte, grandi, che gli permettono di camminare sul gregliato e terreni accidentati. Due ruote sono piroettanti per una semplice manovrabilità del carrello. Il carrello M22 è un carrello a tre piani per tutti gli usi, molto robusto e come tutti i carrelli monaldi è dotato di ruote adatte per i grigliati. Il carrello a tre piani può essere attrezzato in diversi modi, a seconda delle esigenze dell'operatore. Con un cassetto, con un pannello porta-attrezzi, con un supporto porta-rotolo carta o con un supporto porta-sacco rifiuti.